L'inferno esiste? Quali sono le parti di pietra e sabbia che coprono la parte di Dio che è in noi? Sono le domande che i fedeli rivolgono a Monsignor Cacucci nell'incontro organizzato dalla parrocchia di Santa Croce a Bari. L'arcivescovo di Bari e Bitonto ha appena finito di parlare della Lumen Fidei, l'enciclica scritta a quattro mani da Papa Francesco e dal suo predecessore Benedetto XVI. Dobbiamo essere molto attenti nell'ambito della Chiesa a identificare la Chiesa con il Papa, con i vescovi, con i sacerdoti, cioè c'è il rischio di un clericalismo di ritorno. Noi dobbiamo riconoscere nel Papa, come ha detto lo stesso Papa Francesco, colui che presiede alla carità. L'incontro è l'occasione per parlare di temi di attualità come la morte di Pribke o le Eucaristie divorziati. Una cosa è l'opportunità di evitare un funerale pubblico, spiega Monsignore, altra è dire marcisca all'inferno. Questa affermazione non può essere fatta per nessuno, così come nessuno è al di fuori della Chiesa. Anche il battezzato che dovesse rinnegare il proprio battesimo fa sempre parte della Chiesa. Poi, come dice il Concilio, ci sono coloro che in modo implicito possono far parte, nel senso che vivono secondo la loro coscienza in un modo onesto. Questi non sono lontani dal Regno di Dio. Grazie. Grazie. Grazie.